Il Centro d'Arte e di Cultura Georges Pompidou si innalza nel centro di Parigi tra il quartiere di Lézol e il Marais come un immenso parallelepipedo dalle strutture tubolari che si sovrappongono in un gioco di gastro di vetro e acciaio. Un giro nel Marais è d'obbligo quando si va a Parigi. È un quartiere delizioso con tanti negozietti, belle residenze e una tra le piazze più poetiche della città, la Place des Bosch. Il Marais oggi è conosciuto come il quartiere ebraico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il quartiere latino è uno dei quartieri più famosi di Parigi. Una zona multicolore dove potrete trovare fast food e piccoli caffè, negozi d'abbigliamento e librerie specializzate. Insomma, un quartiere in cui si affiancano cultura e consumismo. L'aspetto urbanistico è quello di un tempo con piazzette e piccole biurze. Il nome deriva dalla funzione storica del quartiere, quella di centro di studio. È qui infatti che sin dal XII secolo ha sede l'Università Parigi. Il quartiere in cui si affianca la città, la città, la città, la città. Il quartiere in cui si affianca la città, la città, la città, la città, la città.